133 metri quadri strutturati in una maniera veramente originale. Andiamo a scoprirlo. Ci troviamo in centro a Chiasso, vicinissimi alla stazione, ai supermercati, alle banche, alla posta e a tutti i negozi di prima necessità. Soffermiamoci sui dettagli della zona giurta. Come potete vedere è un mansardato ma molto alto. La cucina gode di due lucernai, oltre le tantissime finestre e poi abbiamo questo suggestivo cammino. Ed eccoci nella zona notte. Abbiamo tre bagni, di cui uno con doccia, uno con vasca. Abbiamo una camera, una camera master e cabina armadio a muro. Ultimo dettaglio importante, ma non per ultimo, il lift direttamente all'ingresso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.